Siamo con il mister, una partita giocata al primo tempo a grandi ritmi, il secondo forse è un pochettino la squadra si è seduta e il coordinato comunque ha messo più grinta e avete avuto un po' di fiolta. La squadra ha fatto un grande primo tempo ma la squadra ha giocato bene, sta bene, stiamo facendo la squadra girare a tutta e sono contento per il risultato, non dimentichiamo che sono 4 su 4 e andiamo avanti per la nostra strada. Il secondo tempo dobbiamo migliorare un po' di stare concentrato al 100% perché poi tu prendi questi gol e ti lascia un po' un ramarico, però ci sta pure, è normale poi dal primo tempo come è andata capitare, ci prendo pure io, ho girato un po' troppo la squadra ma non sono in condizione, magari dare un po' più di ritmo a tutti quanti al secondo tempo e è andata come è andata. Però non dimentichiamo che stiamo già nella quarta giornata, la squadra sta girando bene e non prendiamo troppo con questo secondo tempo. Una squadra che sta crescendo abbiamo detto e i giovani che stanno crescendo insieme alla squadra perché farli giocare significa farli crescere ancora di più. Sì, è questo, noi abbiamo una squadra forte, diciamo la verità, però i ragazzi che stanno intorno stanno crescendo insieme, stanno lavorando, si impegnano durante la settimana e è giusto che arrivi a fine settimana e prendi il loro premio.